Un detenuto del carcere Malaspina di Caltanissetta ha cercato di sottrarre le chiavi delle celle a un agente di polizia penitenziaria per aggredire un altro recluso con il quale c'erano probabilmente delle ruggine in sospeso. Fortunatamente l'intervento del personale della polizia penitenziaria ha scongiurato che l'aggressione andasse in porto. Una circostanza è emersa a seguito di un comunicato del sindacato di polizia penitenziaria Sinappe, il cui coordinatore nazionale Rosario Mario Di Prima ha fatto una riflessione sulla situazione del regime penitenziario e sulla situazione della casa circondariale di Caltanissetta. Una delle questioni sulle quali i sindacati di categoria hanno insistito parecchio nel recente periodo riguarda il numero insufficiente di agenti, spesso costretti a lunghi e sfibranti turni, per garantire la sicurezza e la tutela all'interno della struttura di via Messina. La questione sicurezza è dunque in primo piano. Il coordinatore del Sinappe ha lanciato un appello alla politica. In particolare al governo che si insedierà dopo le elezioni di domenica prossima a mettere in atto gli interventi necessari sulla questione.